Ecco, ci troviamo a Ruventale di Manciano, pizzeria, ristorante. Oggi la rimpatriata tocca ai nostri giovanissimi di Mister Giovanni. E nel discorso da Sapo ci sono stati gli allievi, oggi qua a Ruventale di Manciano ci sono i giovanissimi di Mister Giovanni. C'è sempre il nostro coordinatore Mister Gabriele insieme a Giovanni, coordinatore dell'area tecnica della scuola calcio settore giovanile. C'è Adriano, c'è il presidente Gianni, un felice ritorno di Enrico, un felice ritorno di Enrico. Sì, sì, questo è il video, dopo ti faccio la foto, che sta in copalescenza, ma la cosa che mi ha stupito oggi è che lo trovo più alto, minimo di 10 centimetri. Stanno stirate proprio, è vero. Che vita doc? Qua abbiamo Manuele, Federico, Alex, Riccardo, Manuel, Daniel, Gabriele, Niccolò. Qua abbiamo Pitbull, tazzeccato stavolta, ah ti piace Lucazzarello proprio, bravo. Grazie, grazie. Grazie. Proviamo a manmare all'Alex, Alessandro, Ramondi, Luca Nulli, Di Fresco, Franco.